Musica Non gli nascondo che tutto il quartiere è ormai incazzatissimo visto che ultimamente circa un mese fa ho chiesto appuntamento all'assessore dei lavori pubblici non mi si è cagato di pezzo, mi scusi il termine perché visto che parliamo di merda perdonatemi, noi siamo invasi dalla merda, piscine di torre spaccata, i garage sono invasi è arrivata al primo piano, abbiamo fatto una dichiesta di intervento due mesi fa ci hanno risposto che non ci sono i soldi, tutto quello che vi pare ultimamente ho chiesto appuntamento all'assessore dei lavori pubblici che nemmeno so chi è nemmeno so chi è, non mi si è filato per niente No, no, scusi, ci ha mandato un ufficio tecnico, qualcuno ci ha dato un appuntamento e non si è più visto Ascolti, abbiamo due problemi gravissimi, uno è dovuto all'igiene uno è dovuto all'igiene, un altro che è di vitale importanza i serbatoi, le pompe dell'acqua che sono aperte a tutti magari, certo, magari come no? allora, abbiamo parlato anche noi, infatti quello che stavo dicendo, siccome noi già siamo intervenuti per un'altra palazzina, perché lì la problematica è per la D2 voi siete la D3, credo? ok noi abbiamo già approcciato questo problema comunicando, perché di fatto lì da tempo si è creata una problematica come già avevamo parlato, ovvero che non c'era quello che riguardava la manutenzione ordinaria che da anni, ma da anni, è stata totalmente eliminata quindi noi abbiamo fatto, proprio per la D2, abbiamo fatto un intervento straordinario comunicandolo e loro ci hanno fatto in modo che avvenisse per questa D2 ovviamente è a catena cioè, come oggi ce l'avete voi lì sono quattro palazzine, principalmente che hanno determinate problematiche è un problema che va a catena però di fatto, nel senso, noi siamo già, e specialmente l'assessore, è già, si è attivato per mobilitare questa cosa, infatti già gliel'avevo detto l'ufficio tecnico ha dato appuntamento, ovviamente non si è visto nessuno l'ufficio tecnico ha dato appuntamento? si è pensato che abbiamo dovuto bene, questo ne prendiamo atto, adesso andremo a vedere perché effettivamente non è avvenuto però come voi ben sapete, non solo abbiamo visto questo, ma abbiamo visto anche la problematica dell'acqua che c'era la pompa che non arriva, che non porta al quarto piano allora noi già avevamo vista questa problematica per un altro signore che purtroppo anche lui aveva diciamo, è arrivata al primo piano no, no, lui ce l'aveva già al primo piano quindi voglio dire, queste sono problematiche che ovviamente a quella persona abbiamo risolto da subito perché è stato il primo caso che ci si è presentato facendo un discorso, una forzatura andando a ribadire questo concetto con il Dipartimento proprio per dire questa è la problematica, a oggi bisogna assolutissimamente mettere come era stato previsto ovvero una manutenzione ordinaria, attualmente questa manutenzione ordinaria non c'era e quindi per questo noi ci stiamo attivando ovviamente ci devono far sapere, e questo ve l'avevamo già detto e in quel caso abbiamo fatto una forzatura risolvendo il problema della palazzina D2 adesso probabilmente il problema che dobbiamo risolvere è mettere mano a una situazione pregressa dove tempo fa, adesso non ricordo addirittura se andava addirittura prima di medici questa situazione, se non da medici stessi, quando c'era medici quindi di conseguenza bisogna fare in modo di riattivare intanto questa manutenzione ordinaria che voi avete necessità ho visionato anche determinate cose, ho fatto foto ho visto anche nei garage, dove ci sono i garage le varie problematiche che lì scende e va verso la tubazione la tubazione che il raccordo che è stretto è stato fatto un lavoro anche per modificare il gomito abbiamo preso tutte queste cose sono venuto io e la consigliera in prima persona proprio a visionare la situazione un'altra palazzina abbiamo risolto ad esempio sono venuti a fare il discorso per l'acqua quindi sono venuti a vedere, a vagliare la pompa che saliva che dovrebbe portarla fin dal... la pressione dovrebbe arrivare fino al quarto piano poi da là dovrebbe partire diciamo l'autoclave e in un caso già l'abbiamo sistemata il problema è questo è che giustamente essendo una manutenzione che dovrebbe fatto ordinare fino ad oggi non è stata mai prevista è a catena tutte le palazzine prima o poi avranno delle problematiche del genere perché noi possiamo risolvere un problema perché magari è un'urgenza c'è anche un problema di sicurezza poi giustamente agli arrivano altri e ovviamente dobbiamo andare a risolvere noi un problema che doveva essere risolto a monte parliamo di anni fa con un discorso senza ombra di dubbio con un discorso di manutenzione ordinaria quindi noi oggi quindi è il 20 quindi avremmo è il 20 quindi oggi avremmo la possibilità insomma di verificare altre cose con l'ufficio tecnico tutto qua poi ovviamente sappiate che comunque questa cosa l'ho presa io in carico in prima persona e non la lascio nel senso non vi lascio come non abbiamo lasciato la D2 non lasciamo neanche la D3 va bene? io volevo solo aggiungere una cosa questo visto che ormai siamo vogliamo risparmiare per Roma per il bene di Roma quello delle fogne è ormai una cosa che si ripete anno per anno io vorrei fare i conti di quanti soldi sono stati spesi per chiamare le pompe anche noi è un intervento non è ordinario lì va fatto un intervento straordinario per far sì che domani si risparmi lo è diventato adesso lo è diventato ma di fatto se c'era una manutenzione ordinaria questo non avveniva perché se costantemente si faceva una manutenzione non si arriva alla rottura delle pompe dell'autoclavi non si arrivava alla rottura anche delle tubazioni del fatto dei raccordi che erano troppo quindi voglio dire se si faceva una manutenzione ordinaria non si arrivava a quella straordinaria è questa la problematica però non vi lasciamo tranquilli non vi lasciamo allora io scusate scusa Sergio io vorrei scusarmi con il Presidente per l'irruenza ma credetemi vorrei invitarvi tutti i consiglieri di maggioranza e di opposizione a prendere visione di quello che è muniti di mascherina credetemi no no lo so specialmente in giornata di bassa pressione ho le foto no le foto non portano gli odori no no lo so c'è un signore che abita al settimo piano parola mia d'onore che sta con le bombole perché purtroppo sta male non può lui ha bisogno di aria a volte gli è privato di aprire le porte quando in giornata di bassa pressione sale tutto non vi dico quello che è mi farebbe piacere che voi prendiate atto prendere visione di quello che è no no ma guardi le foto ci sono perché sono venuto sul posto non perché ho fatto comunque se volete vi porto anche gli altri commissari non c'è problema grazie 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 a tutti 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 No, non c'è bisogno. Allora, riapriamo il Consiglio, seduta aperta e passiamo a quello che era originariamente il quarto punto all'ordine del giorno ed è la proposta di deliberazione avento oggetto espressione parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo, proposta di deliberazione di iniziativa consigliare a firma della consigliera Celli, regolamento per l'attività sportiva nelle strutture scolastiche dei municipi, centri sportivi municipali, revoca della deliberazione del Consiglio Comunale numero 163 del 2003. Chi presenta? Benissimo, Consigliere Giannone a facoltà di parola. Sì, grazie Presidente. Colleghi consiglieri, questa proposta di deliberazione è arrivata in Commissione Quinta, corredata da un parere tecnico-amministrativo favorevole, comunque con alcune prescrizioni riguardo due articoli in esso contenuti. Comunque è da rilevare che questa proposta di deliberazione approda in questa consigliatura ormai traghettata dalla precedente, durante la quale non ha affatto in tempo ad essere approvata. Siamo consapevoli che dietro la presentazione di ogni atto vi sia comunque un impegno e una dedizione nel redigerlo naturalmente, ma la Commissione Quinta nell'esprimere il proprio parere ha tuttavia tenuto conto del fatto che già dall'inizio della nuova consigliatura la Commissione Capitolina competente, la decima, personale, statuto e sport, abbia già messo mano alla riscrittura del regolamento dei centri sportivi municipali, la cui stesura è ormai in dirittura d'arrivo. In considerazione di ciò, quindi, la Commissione Quinta ha ritenuto più utile di buonsenso rinviare il percorso di approfondimento, revisione ed espressione e parere, quindi a partire dal nuovo testo che sarà licenziato a breve. Per questo motivo, sempre la Commissione Quinta ha espresso un parere contrario a questa proposta di deliberazione. Apprezziamo tuttavia l'impegno e la volontà della Consigliera Celli di migliorare un regolamento che, a parere dei più, contiene diversi elementi discutibili. Siamo certi che ciò che di condivisibile vi è in questa proposta sarà comunque preso in considerazione nel nuovo testo. Grazie. Altri interventi? Non ci sono interventi. Ma non ci siamo con il numero legale, però? Non ci sono interventi, abbiamo problemi con il numero legale. Mi sa? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Sì, guardate fuori, per favore. Ecco, una arriva, ne manca un'altra persona. Perfetto, ci siamo forse? Vediamo. Ci siamo? Ci siamo. Benissimo. Se non ci sono interventi andiamo direttamente con la dichiarazione di voto. Dichiarazioni di voto? Consigliere Giannone? Il Movimento 5 Stelle voterà a favore della delibera, del parere contrario. Ci sono altre dichiarazioni di voto? No? Allora, passiamo alla votazione dell'atto che ricordo esprime parere contrario. Chi è a favore della delibera che esprime parere contrario? Allora, bene. Bene, i contrari, al parere contrario, consigliere Avitrotti, bene. Astenuti, a qualsiasi parere. Allora, la delibera viene approvata con 12 pareri favorevoli. Un contrario e tre astenuti. Benissimo. Passiamo all'ex punto 5. La proposta di deliberazione avente ad oggetto espressione parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo. Proposta di deliberazione di iniziativa consigliare a firma del consigliere Corsetti. Approvazione del regolamento per la concessione di spazi a aree pubbliche in riduzione o affrancamento del canone in cambio della fornitura di beni e servizi pubblici e gratuiti. Bene, lascio la parola al relatore. Bene, allora consigliere Principato. La proposta di deliberazione arriva con parere negativo del Dipartimento Risorse Economiche e Direzione della Gestione dei Procedimenti connessi alle entrate fiscali. Grazie. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Alla Zazzera? Allora, si precisa inoltre che l'articolo 17,6 del regolamento in materia di OSP e COSAP demanda esplicitamente all'Aggiunta la disciplina delle concessioni di spazi e aree pubbliche in riduzione o affrancazione del canone in cambio della fornitura di beni e servizi pubblici e gratuiti, mentre la proposta di deliberazione di iniziativa consigliare, così come formulata, richiede l'approvazione da parte dell'Assemblea Capitolina a cui l'articolo 42,2 lettera A del decreto legge 267 del 2000 attribuisce la competenza in materia regolamentare. Grazie. Altre interventi? Non ci sono altri interventi? Passerei quindi alle dichiarazioni di voto? Ci sono dichiarazioni di voto? Vi ricordo che il parere sulla delibera è contrario, il parere di commissione... Sì? Dichiarazioni di voto? Sì. Voto favorevole a parere contrario. Grazie. Allora, se non ci sono altre dichiarazioni di voto passerei alla votazione della delibera in oggetto, a parere contrario, quindi favorevoli a lato alla delibera. Contrari? Astenuti? Penso che il numero sia lo stesso. Tre astenuti, un contrario e 12 favorevoli. Quindi anche questa deliberazione viene approvata. Con 12 favorevoli, un contrario e tre astenuti. Bene, passiamo al punto successivo. Proposta di deliberazione avente a oggetto espressione parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo. Proposta di deliberazione di iniziativa consigliare a firma del consigliere Corsetti. approvazione delle linee guida del regolamento per la francazione della tassa di soggiorno in cambio della fornitura di beni e servizi pubblici e gratuiti su spazi ed aree pubbliche. Benissimo, c'è una presentazione. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, in questa proposta si richiede una francazione della tassazione di soggiorno in cambio della fornitura di beni e servizi pubblici e gratuiti su spazi ed aree pubbliche. La proposta di deliberazione arriva a comparere negativo del Dipartimento Risorse Economiche, direzione della gestione dei procedimenti connessi alle entrate fiscali, in quanto la figura del gestore risulta assimilabile a quella di agente contabile, ovvero incaricato dell'incasso della tassa in questione, così poi da versarla al comune nell'adempimento delle norme vigenti. La persona fisica che pernotta nelle strutture ricettive è considerato soggetto passivo del contributo di soggiorno, in quanto non residente nella città di Roma. Il gestore proprietario ha l'obbligo di riversare nei termini previsti dal regolamento il contributo dovuto da chi pernotta nelle strutture ricettive. Quindi per quanto espresso nessuna delle due figure può trattenere la tassa restituendo bene i servizi, in quanto il gestore è solo agente contabile e la persona fisica che pernotta nelle strutture ricettive non è riconosciuto giuridicamente quale comunità di cittadini costituite in forme associativi stabili. Grazie. Altre interventi? Consigliere Acerconi? Buongiorno. Per quanto riguarda Fratelli d'Italia, faccio un piccolo escursus. Quando fu proposto anche l'aumento della tassa di soggiorno a Roma, Fratelli d'Italia intervenne in aula chiedendo con un emendamento per chiedere la creazione dei fondi vincolati. Qual è il fine di creare dei fondi a sostegno vincolati a cosa? Vincolati al sostegno del turismo. Il turista che viene a Roma e versa la tassa di soggiorno, questa tassa di soggiorno dovrebbe essere vincolata a dei servizi che utili sia a chi viene, quindi al turista, ma utili soprattutto al cittadino potessero in qualche modo essere concretamente riversati sul territorio. Questo in realtà non viene fatto. Fratelli d'Italia, riguardo a questa proposta di delibera, è contraria al parere contrario, cioè è affavorevole a quello che viene richiesto nella delibera per il seguente motivo. Nel momento in cui al Comune entrano dei fondi e questi fondi vanno a finire direttamente nel calderone dei debiti, noi non avremo mai dei servizi che possono essere efficientemente, efficacemente finanziati con degli introiti anche aumentati. Che cosa voglio dire? Prima albergo 5 stelle, 5 euro di tassa di soggiorno, oggi mi sembra anche fino a 7 euro. Quell'aumento, quei 2 euro in più, non sono stati destinati a delle opere concrete sui territori, sono semplicemente andati nei famosi buchi delle precedenti amministrazioni e quindi a coprire un precedente debito. Secondo me se si vuole dare una svolta e anche per far capire che c'è una novità, in tal senso vanno costituite dei fondi vincolati proprio con queste tasse di soggiorno, cioè dire il turista viene a Roma, io con i soldi del turista che viene a Roma che cosa intendo fare? E allora là va fatta una programmazione pluriennale e dire io so che sullo storico della tassa di soggiorno mi entrano 2, 3, non lo so, non so quanto ci entra, questa è una notizia che dovrebbe fornirci il comune. Ci entrano 3 milioni di euro, quei 3 milioni di euro decido per il 2017 di aumentare le corse degli autobus o di migliorare la viabilità o di fermire dei servizi aggiuntivi ai cittadini romani. Quindi crediamo che sia fondamentale investire le risorse che ci vengono dall'esterno perché ha detto bene il consigliere che mi precedeva, cioè la tassa di soggiorno la paga il cittadino non residente nel luogo dove avviene il pagamento, ma è uno straniero o un cittadino che viene da un'altra città italiana. Però è essenziale che quei fondi vadano a beneficio del territorio dove viene esplicato il servizio. Ora, se il comune non è stato in grado di utilizzare quei fondi a servizio dei cittadini perché nessuna voce di bilancio, cioè la voce tassa di soggiorno che poi viene reinvestita per delle opere particolari come Fratelli d'Italia chiede, noi crediamo che come in tanti casi il privato sia stato responsabilizzato e quindi al privato sia stato chiesto un intervento concreto nella gestione di vie, piazze, parchi, sia utile anche da questo punto di vista. Ovviamente serviranno degli adeguamenti normativi, questo è evidente, per ogni cambiamento serve un adeguamento normativo, ma riteniamo la proposta fatta dal consigliere Corsetti sinceramente in linea anche con l'andamento della pubblica amministrazione, ossia con la responsabilizzazione del privato che è chiamato ad adoperarsi al bene e alla fornitura di servizi in favore dei cittadini. Quindi siamo in questo caso, mi scusi, siamo contrari al parere contrario della delibera. Altre interventi? Consigliera Tripputi? Sì, grazie Presidente. Sono parzialmente d'accordo su quello che diceva la consigliera Cercuoni, però come è stato detto appunto dal consigliere Principato, la figura di colui che paga la tassa non è una figura giuridica, quindi se io devo comunque affidare un'area verde eccetera, a chi l'affido? Al gestore? Ma il gestore non ha alcuna figura in questo caso, perché lui è solamente un contabile, è un agente contabile, diciamocela proprio volgarmente, è un passacarte, cioè io prendo i soldi dal turista e lì verso direttore, quindi non figura proprio, questo è il discorso. Quindi benvenga una proposta del genere, ma bisogna sicuramente cambiare la normativa. Bene, ci sono altri interventi? Consigliere Toti? Sì, io penso allo stesso modo, benvenga, però manca la normativa. No, lo spirito è interessante, io penso anche giusto, però ecco, senza l'adeguamento della normativa, oggi non abbiamo una normativa che ci consente questo, io mi astrerò appunto su questa, proprio perché manca una normativa e voglio dire, anche se lo spirito è buono, perciò voglio dire, io mi auguro che un discorso di questo tipo possa essere fatto in futuro, perché mi sembra interessante rispetto a una mobilitazione, in questo caso, dell'imprenditoria rispetto al bene comune. Voglio dire che è importante che tutti partecipino in vario modo al bene comune della nostra città e soprattutto del nostro municipio, però oggi manca, perciò io sono favorevole allo spirito, però mancando un adeguamento di tipo normativo non posso fare altro che astenermi rispetto a questo. Bene, ci sono altri interventi, mi sembra di capire che gli interventi sono stati già dichiarazioni di voto, comunque io, se non ci sono interventi, procederei alle dichiarazioni di voto vere e proprie. Consigliera Cerconi? Un minuto solamente per ribadire che voteremo contrari, perché il problema non è la regolarità giuridica del soggetto, perché il soggetto che è chiamato è come un contratto di sponsorizzazione che è passato qualche tempo fa, cioè il soggetto che prende i soldi è colui che invece di versarli al comune semplicemente ci fa l'opera. Quindi non è che è una cosa particolare, lungi da me il voler difendere corsetti, però una volta tanto che il PD propone qualcosa di sensato, mi sento di dover appunto accoglierla. Tre dichiarazioni di voto, consigliere Principato? Sì, no, vorrei nella dichiarazione di voto chiarire un passaggio, che è quello dell'intervento finale che ho fatto in presentazione. Sia il gestore che la persona fisica non sono riconosciuti giuridicamente come associazione di cittadini, quindi pensare che la destinazione di entrate che dovrebbero essere del comune possano andare ai gestori privati per le nostre linee politiche è assolutamente folle. Infatti si parla di associazioni di cittadini, di comunità che rappresentano tutto il territorio. I gestori privati non rappresentano tutto il territorio e quindi non ha senso che si possa fare una modifica di questo tipo. Anche perché credo che legalmente non sia nemmeno possibile una cosa del genere. perché vanno, ricordo, tutelati gli interessi di tutta la comunità e non solo di una parte. Per questo motivo noi ci esprimiamo favorevoli al parere contrario della Commissione. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Totti. Io ripadisco il mio voto d'assenzione. Ecco, volevo solo dire che benvengano non soltanto sempre con un adeguamento rispetto alla normativa, rispetto a questo anche i singoli imprenditori, non solo le associazioni se è possibile che intervengano anche rispetto a una loro proposta Sì, no, voglio dire, non con questa formula perché è fuori voglio dire però nella visione generale non soltanto il discorso dell'associazionismo che è pure positivo e benefico rispetto a questo ma anche che ci sia possibilità per il futuro anche di singoli imprenditori e come ho detto io premio lo spirito per questo non è che sono contrario alla richiesta di Corsetti però voglio dire mancando l'adeguamento normativo non mi posso che astenere. Abbiamo già tutte le dichiarazioni di voto? Allora, procediamo quindi alla votazione chi è favorevole alla delibera? Chi esprime parere contrario? Bene, chi è contrario? Sì? Chi si astiene? Bene, quindi la delibera è approvata con 11 voti favorevoli un contrario e 3 astenuti Passiamo al punto successivo ed è invece la proposta di deliberazione avente ad oggetto l'espressione di parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta di deliberazione ed iniziativa del municipio primo integrazione alla delibera assemblea capitolina numero 36 del 2006 Bene, su questa delibera mi preme fare una precisazione non abbiamo il parere della commissione perché la commissione si è astenuta quindi vorrei ricordare come già detto l'altra volta bisogna capire prima qual è il parere da inserire nella delibera e poi votare la delibera Bene, quindi la presentazione e la relazione C'è qualcuno? Sì, consiglierà triputi? Grazie presidente Sì, questa proposta di delibera arriva in commissione dal municipio primo con il parere favorevole da parte dell'ufficio tecnico e volevo ricordare che il municipio primo è un accorpamento di due municipi il 17 e il primo ed è comunque la parte storica il centro storico proprio della nostra città quello che noi abbiamo evidenziato in commissione come mai come mai solo via Margutta abbiamo guardato la mappa proprio del primo municipio effettivamente ci sono anche altri siti da poter considerare quindi per questo motivo ci siamo astenuti in commissione perché ci sembrava un po' scarna cioè visto che ci dobbiamo mettere le mani mettiamocene bene cioè inseriamo anche altri siti tra l'altro voglio anche ricordare che questa la delibera 36 del 2006 è stata già ampiamente discussa in un'altra commissione qualche settimana fa e parlava appunto dei siti da tutelare parlando appunto dell'artigianato eccetera quindi voglio dire quante volte ci si deve mettere mano questa delibera ma non è il caso magari di studiarsela meglio elaborarla una volta per tutte questa è la conclusione che abbiamo poi raggiunto alla fine tutti la maggior parte dei commissari grazie ci sono altri interventi? no se non ci sono altri interventi passerei alle dichiarazioni di voto ci sono dichiarazioni di voto? allora ricordiamoci bisogna esprimere il parere nella delibera quindi votiamo il parere ok? perché la commissione sostenuta i consiglieri in consiglio si devono esprimiamo il parere si voglio dire se la maggioranza è chiaro che il parere poi diventa quello no? ok allora chi è favorevole alla proposta di deliberazione presentata dal consigliere Corsetti mi scusi un attimo cioè noi è come se fossimo in commissione adesso stiamo votando il parere della commissione eh sì perché non c'è nella delibera il parere e poi dobbiamo votare non c'è allora ripetevo non c'è bisogno si capisce già dalle esattamente se si capisce qual è la maggioranza degli intenti si scrive direttamente nella delibera e si capisce che ha accettato l'atto voglio dire è inutile fare pure il gruppo di maggioranza si perfetto quindi allora chi è favorevole alla proposta di Corsetti non ci sono favorevoli chi è contrario alla proposta del consigliere Corsetti quindi prevale il parere contrario ok e l'atto viene quindi accettato con il parere contrario a meno che non vogliate fare adesso votazione possiamo pure voglio dire tanto penso che il risultato sarà lo stesso a chi è favorevole quindi alla delibera che esprime parere contrario e quindi è lo stesso ah perché loro devono verbalizzare giusto benissimo i contrari gli astenuti no 5 5 astenuti quindi viene viene votata la delibera con parere contrario con 11 favorevoli nessun contrario e 5 astenuti passiamo al punto successivo ed è l'espressione parere esensi dell'articolo sede regolamento del decentramento amministrativo proposta di deliberazione di iniziativa consigliare la firma dei consiglieri Catini Angelucci Pacetti Coglia Agnello Terranova Sturni Ferrara Calabrese Paciocco e Seccia relativo al regolamento sale da gioco e giochi leciti chi la presenta allora il parere è favorevole chi la presenta consigliera Treputi grazie presidente questa proposta di deliberazione arriva in commissione con parere favorevole dal dipartimento dello sviluppo economico in sede di commissione sono state ascoltate delle rappresentanze di alcune associazioni che appunto operano nel campo del gioco d'azzardo la Libera Hauser e Comunitappia che ci hanno illustrato la realtà e l'impatto sociale che il gioco d'azzardo ha sul nostro territorio hanno espresso la loro preoccupazione perché questo fenomeno ormai è dilagante sta compromettendo l'equilibrio socio-economico mettendo a rischio soprattutto le fasce deboli sentite queste rappresentanti delle associazioni ci siamo resi conto quanto sia estremamente necessaria una buona regolamentazione specifica che tutela le utenze inconsapevoli delle insidie che si celano dietro a queste attività il gioco infatti si configura come un molteplice negativo dell'economia agendo come un depressore della domanda complessiva di beni e servizi l'aspetto preoccupante è il rapporto tra il numero di sale dedicate all'azzardo presenti nei nostri municipi e quello dei cosiddetti comprooro fattore da non trascurare perché più aumentano queste sale da gioco e più punti di comprooro diciamo sono strettamente legati la cui allarmante diffusione negli ultimi anni sembra potersi collegare direttamente alle situazioni di disagio determinate anche dalla sfefazione dal gioco i dati allarmanti e preoccupanti che emergono da uno studio che è stato fatto dal 1993 al 2013 dice proprio questo in passato noi avevamo una spesa di 8,79 miliardi di euro e nel 2012 siamo passati a 88,57 miliardi con un incremento reale del 900% è una cosa si deve sottolineare che la struttura dell'economia del gioco d'azzardo è cambiata velocemente dopo essere rimasta pressoché identica dal dopoguerra alla metà degli anni 90 è sorto un mercato del tutto particolare poiché è caratteristica italiana è regolato dalla concessione e non è offerto da privati ai quali sia stata rilasciata la licenza in luogo del libero esercizio da parte dei privati di un business regolato da norme generali in altri termini lo Stato consente lo sfruttamento a vantaggio di essi privati di un'utility pubblica di monopolio statale il servizio di offerta di gioco in denaro con Alea solo di recente per indicare anche le attività regolari di vendita di giochi di fortuna è invalso l'uso dell'espressione gioco d'azzardo stringiamo il campo su Roma più di 1500 euro all'anno è la cifra che ogni romano anche neonati e infermi spende per il gioco d'azzardo slot machine gratte vinci scommesse concorsi scommesse concorsi a premi e pronostici costituiscono per le famiglie una fonte di spesa che eguaglia i consumi alimentari ed è superiore al riscaldamento domestico e alle cure mediche e alle cure anche dentali la regione Lazio è tra le prime in Italia per consumo di gioco d'azzardo secondo i dati pubblicati dal monopoli di stato nel 2014 è seconda unicamente alla Lombardia e precede la campagna si parla di un miliardo e 803 milioni di euro di risparmi dei cittadini della regione spesi a favore dell'industria dell'azzardo l'avvento dell'azzardo di massa ha profondamente inciso anche sul territorio delle città le periferie hanno assunto i tratti di tante Losche e Las Vegas e Roma ne è un esempio paradigmatico nella capitale sarebbero presenti oltre 300 sale da gioco e secondo le stime dalle 21 mila alle 40 mila slot machine in tutti i quartieri fatta eccezione per il centro storico dove disposizioni comunali hanno escluso più correttamente limitato l'apertura di queste attività proliferano i luoghi dell'azzardo secondo alcuni dati pubblici pubblicati online nel 2010 è stato l'anno dell'esploit 36 sale slot e punti di gioco nel solo quartiere pre-nestino ma anche al Pigneto Stiense Gianicolense su Viale Marconi per non parlare della Tiburtina Valley e della Tuscolana dove ad esempio a piazzare di Roma una famosa concessionaria ha aperto la sala da gioco più grande d'Europa con 900 postazioni dedicate all'azzardo per invogliare i giocatori questo c'è stato anche riferito dalle rappresentanti di queste associazioni che abbiamo invitato in commissione ci hanno anche spiegato che per invogliare i giocatori a entrare in questi non luoghi con l'obiettivo di sperperare tempo e denaro sono state studiate le formule più disparate dall'area per bambini quindi un modo di intrattenere i bambini mentre i genitori sono dediti appunto al gioco ai videogames per gli adolescenti alle cure per il corpo dedicate alle signore quindi abbiamo le signore che si trastullano diciamo in attività diciamo rilassanti e i loro mariti invece sono dediti appunto a queste postazioni a giocare e sperperare i soldi le sale da gioco sorgono ovunque senza risparmiare il passato dei luoghi che le ospitano piccole botteghe artigiane mini market negozietti d'abbigliamento una storia di resistenza alla progressiva diffusione dell'azzardo sul territorio romano è rappresentata dall'ex cinema teatro situato nello storico quartiere di san lorenzo il palazzo di piazza dei sanniti che penso che conosciamo tutto è stato ampiamente discusso anche in vari talk show e telegiornali una società che aveva stipulato un contratto di locazione per l'uso commerciale dell'immobile avrebbe voluto trasformarlo in un negozio di gioco legale una sorta di casino mascherato da sala da gioco solo grazie all'intervento di cittadini artisti studenti e attivisti che hanno deciso di occupare l'ex cinema teatro è stata scongiurata questa nuova apertura e oggi lo spazio è aperto a progetti e incontri per la cittadinanza una riappropriazione dello spazio culturale che non a caso ha come logo casino questa proposta di deliberazione analizzata a punto per punto regolamenta tutte quelle criticità emerse nel corso di questo lungo periodo di vuoto normativo si tutelano i luoghi cosiddetti sensibili come ad esempio le scuole di qualsiasi grado previsto nella legge regionale numero 5 2013 i luoghi di culto impianti sportivi stazioni ferroviarie musei civici caserme centri accoglienza e centri per l'impiego parchi e spazi pubblici attrezzati e spiagge già previsti sempre nella legge regionale numero 5 2013 strutture residenziali e semi residenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale è previsto altresì al fine di tutelare la salute pubblica per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca fattore di rischio di insorgenza di fenomeni d'azzardo patologico nonché incentivo al gioco l'apertura di sportelli bancari sia all'interno che nel raggio di 200 metri dalle sale quindi è molto importante questo passaggio anche la scelta degli orari di apertura sono compresi dalle 10 alle 24 l'attenzione viene rivolta anche per esercizi commerciali e gli altri deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare apparecchiature per il gioco d'azzardo questo è previsto sempre dalla legge numero 5 2013 articolo 5 la commissione a seguito di un'attenta valutazione conseguente discussione si è espressa con parere favorevole fino a pochi anni fa si insisteva nel distinguere i giochi di alea promossi dallo Stato dalla terminologia specifica dell'azzardo tuttora quando nei documenti istituzionali si citano le 420.000 slot machine in funzione in Italia o i casino online inaugurati nel luglio del 2011 o ancora l'imponente volume delle scommesse su eventi sportivi si ricorre a termini che ne attenuano la forza semantica gioco pubblico scommesse sportive giochi con vincite in denaro apparecchi da intrattenimento e ricorrendo alla lingua inglese gli imprenditori del settore parlano di gaming attività ludica di puro divertimento e non di gambling termine che al di là della manica designa il gioco d'azzardo per l'appunto lo Stato italiano insomma non qualifica ufficialmente la spesa che definisce raccolta registrata di quasi 90 miliardi di eh lo vedi registrata di quasi 90 miliardi di euro anno 2012 come consumo di gioco di azzardo sebbene ontologicamente le slot machine di prima e di seconda generazione dette VLT il poker online e le roulette virtuali in nulla differiscono dalle macchine automatiche del casino di Las Vegas e dalle pagine web dei gestori di blackjack domiciliati in Sudafrica o nelle isole caraibiche la scelta di tale modalità linguistica prosegue con assoluta insistenza anche quando non si prende atto di un'evidenza di danni collaterali del gioco a soldi pubblico nonne che la letteratura scientifica denomina gioco d'azzardo patologico il gap per l'appunto e che anche in atti legislativi italiani è talvolta chiamato ludopatia tale termine creativo suggerisce la sindrome che coglie chi si diverte troppo o detto divertirsi da morire tale espressione giudiziaria di specifici fatti reato è la regolazione della pubblica sicurezza con strumenti di tipo amministrativo e di particolare efficacia nella prevenzione di condotte socialmente censurate si è generato un vuoto enorme che produce molte conseguenze se ne possono riassumere quelle più rilevanti l'aumento della conflittualità legata alla convivenza con le installazioni di gioco liti risse torpiloquio rumori molesti eccetera assenteismo dal lavoro incettivazione di reati presenza di minori e acquisto da parte di giovani giovanissimi di tagliandi di lotterie istantanee o di scommesse abuso di alcolici tabacismo cronicizzato liti domestiche abbandono di minori e sottrazione all'obbligo di assistenza ai congiunti anziani indebitamento eccessivo e insolvenze tutto il complesso di comportamenti appena ricordato costituisce lo sfondo in cui si colloca la diffusione del quadro clinico gioco d'azzardo patologico ripeto il gap che il decreto legge 13 settembre 2012 numero 158 convertito con legge 8 novembre 2012 numero 189 ha inserito tra le sofferenze psichiche da dipendenza da condotte nocive che il servizio sanitario nazionale deve prendersi in carico la dipendenza da gioco d'azzardo è dunque un quadro clinico tipizzato dall'organizzazione mondiale della sanità come gap e non come ludopatia il gioco patologico non travolge il solo giocatore ma coinvolge tutto l'insieme delle sue relazioni la famiglia le amicizie il lavoro non sembra ci sia la giusta percezione della gravità del problema il giocatore non è come l'alcolista o il tossico dipendente che sente sul suo corpo gli effetti del proprio vizio il gioco d'azzardo non riceve la stessa stigma sociale consigliera triputi mi vedo costretta a interromperla ok se è breve perché abbiamo superato il tempo si che ne conseguono famiglie divise povertà indebitamenti sfruttamento e malattia non lo è perché le potenti multinazionali concessionarie delle licenze hanno fatto del gioco un prodotto rispettabile che finanzia la cultura e lo sport che fa divertire e che promette un futuro migliore soprattutto non hanno fatto la maggiore entrata pubblicitaria di televisioni e giornali influenzando di fatto le scelte editoriali e i grandi eventi sportivi non lo è perché è considerato a torto una posta importante del bilancio dello Stato inserita nei documenti programmatici che presentiamo all'Unione Europea con previsioni in aumento quindi una risorsa che sostiene le finanze e lo Stato sociale ultimo e concludo 187 milioni di euro investiti dall'azzardo per pubblicità nei giornali grazie bene ci sono altri interventi sul non ci sono Presidente scusi ma visto che anche quella dopo è collegata si può fare un discorso no lo facciamo singola oppure le mettiamo lo facciamo singola e le votiamo direttamente ci sono interventi no se non ci sono interventi andiamo alla dichiarazione di voto ci sono dichiarazioni di voto allora vi ricordo che nell'espressione in commissione è stata favorevole ok ci sono dichiarazioni di voto consigliere Guido si grazie Presidente chiaramente il gruppo 5 Stelle voterà a favore perché il lavoro fatto già a livello comunale è molto vasto è molto ampio integra anche varie casistiche è uno studio insomma che negli ultimi anni in effetti non è stato fatto proprio per la sua vastità per questo motivo chiaramente confermiamo il parere favorevole della commissione e votiamo a favore anche qui grazie dichiarazione di voto consigliere Giuliano noi come Fratelli d'Italia ci asteniamo in virtù del fatto che successivamente c'è un'altra proposta di delibera che verte su questo e quindi argomenteremo anche meglio la nostra ma per quanto ci riguarda non possiamo essere contrari ma pensiamo che comunque l'astensione possa essere comunque una vicinanza al problema perché riteniamo che la nostra possa essere diciamo più diciamo più precisa e puntuale fermo restando che la collega ne ha fatto veramente un passaggio un passaggio esemplare nella spiegazione e nell'argomentazione di quello che è stato il lavoro della commissione grazie consigliere Totti come Roma Popolare votiamo a favore di questo di questa risoluzione in quanto per noi è una battaglia difficile questa una battaglia quasi impossibile ma una battaglia che comunque dobbiamo fare con forza ugualmente che le leggi regionale quella nazionale voglio dire già si è espressa rispetto a questo i risultati ancora non si vedono purtroppo come diceva la consigliere di 5 Stelle Roma purtroppo per seconda paria come provincia rispetto al gioco d'azzardo perciò noi non facciamo differenze rispetto a quella a questa presentata 5 Stelle rispetto all'altra che poi voteremo anche quella favorevolmente che presenta Fratelli d'Italia proprio perché voglio dire rispetto a questo ci deve essere tensione che viene da tutte le parti senz'altro dalla parte nostra e dobbiamo assolutamente fare fronte comune come municipio anche perché abbiamo una presenza come quella di Piazza e di Roma che è una presenza veramente ingombrante e per questo ecco la mobilitazione generale ci deve essere rispetto a questo problema altri interventi dichiarazioni di voto abbiamo fatto tutti bene non c'è ah sì non c'è più nessuno del PD ok procediamo quindi alla votazione favorevoli contrari astenuti quindi viene approvata con 12 voti favorevoli e due astenuti nessun contrario passiamo alla successiva sempre un'espressione di parere sulla proposta di deliberazione di iniziativa consigliare a firma dei consigliari De Priamo Meloni e Ghera linee guida per l'adozione del regolamento di Roma Capitale per le sale giochi l'installazione produzione e o distribuzione di apparecchi e congegni automatici semi automatici ed elettronici da gioco e VLT in commissione è stato espresso parere contrario per la relazione benissimo il consigliere Candigliota grazie presidente allora no c'è da dire questo scusate la relazione è sull'atto non è sulla proposta quello viene fatto in commissione quindi è normale che venga fatto un intervento dal presidente della commissione o da una persona scelta dalla commissione grazie certo purtroppo purtroppo sì allora come è stato già detto ovviamente noi abbiamo una nostra ma vanno evidenziate alcune problematiche legate alla proposta di deliberazione in quanto i punti legati al parere favorevole da parte del dipartimento sono vincolati alla modifica della stessa cioè altrimenti così com'è il parere da parte del dipartimento era negativo tant'è vero che sul parere del dipartimento c'era proprio scritto che era vincolata a determinate modifiche modifiche che adesso vado a sciorinare che ci sono dei punti da evidenziare che sono molto fondamentali come ad esempio l'amministrazione capitolina con il presente documento si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito del proprio territorio avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli per ridurre gli effetti pregiudizievoli l'amministrazione non deve garantire la diffusione ma limitarla un altro punto è in merito all'apertura di nuove sale gioco va detto che la nostra deliberazione non tratta solo le nuove ma tutte compreso le esistenti prevedendo un periodo di transitorio di tre anni per tutti gli esercizi per come scritta a subire questo regolamento sarebbero solo le nuove aperture io mi rifaccio sempre a quello che poi è il parere anche del dipartimento inoltre la dicitura sale giochi non comprenderebbe i centri scommesse che invece subiscono la nostra delibera la distanza dei mille metri era già nella proposta della scorsa consigliatura tuttavia è stata ritenuta una distanza pericolosa dal punto di vista dei ricorsi al TAR è nostro dovere formulare un regolamento che sia inattaccabile senza sbilanciarsi su cifre di riferimento abbiamo ritenuto quindi di aumentare i punti sensibili e lasciando come riferimento la distanza non superiore alla media nazionale inoltre la proposta cita ne faccio citazione né in edifici che ospitano le civili abitazioni cioè pregamento ovunque un altro punto è limitare la chiusura alle sole o repasti non va a contrastare una dipendenza che si esprimerebbe negli altri orari premesso tutto ciò dal momento che la proposta del movimento 5 stelle è più completa ma non lo diciamo noi ha avuto un parere favorevole da parte del dipartimento è implicito perché per tutti questi motivi siamo più propensi alla nostra proposta grazie altri interventi passiamo alle dichiarazioni ah non l'avevo visto come ho potuto consigliere Giuliano non si preoccupi ma si ci mancherebbe altro la mia sensibilità cerco di non dare fastidio al consiglio visto l'intervento del collega insomma e poi la perfetta esplicitazione della Presidente della Commissione è ovvio che sarebbe anche tra virgolette inutile avreste ammazzato chiunque per non intervenire ma io devo intervenire uguale mi dispiace perché perché mi piace poi quando capita questa occasione di poterci confrontare per l'amor di Dio noi come si dice in proporzione siamo un piccolo grazie pure a me casca non solo a principato che se ne è andato e dicevo noi siamo un piccolo partito del 5% nazionale del 13% a Roma certo rispetto a un 30% del 5 stelle abbiamo meno forza è ovvio e quindi abbiamo anche meno tempo a disposizione per parlare perché giustamente gli interventi vanno in base alla percentuale di voto però quel poco che possiamo dire lo vogliamo dire vogliamo contribuire ora non penso che Giorgia Meloni il nostro presidente il capogruppo che era e De Priamo insomma abbiano fatto questa proposta di delibera così tanto per perdere un po' di tempo ci mancherebbe altro e non è perché sapevano appunto che voi eravate già pronti nella vostra ma immagino che volevano dare il contributo e porlo anche nei vari municipi per una discussione fattiva per un argomento che non va sottovalutato e quindi è ovvio che io mi viene mi viene ovviamente da ho ricevuto le le osservazioni che prima il collega faceva e quindi apprezzo il fatto che è stata come si dice valutata e non a priori verrà vi asterrete a priori io questo lo so però dicono non che vi asterrete a priori perché comunque avete visto che la vostra contiene la vostra contiene degli elementi che porta a una maggiore diciamo intervento analisi e localizzazione bene però noi abbiamo usato come per l'altra delibera quindi l'altra proposta per quanto riguarda i rom usiamo degli dei verbi dei vocaboli che sono mi sembra giusti quindi noi non siamo cioè siamo quindi per un regolamento nuovo siamo per le linee guida che finalmente possono essere ben determinate e precise quindi siamo per un sistema che non fascia proliferare ovviamente questa divertività di un controllo che fino ad oggi è stato insufficiente quindi di questo siamo d'accordo siamo d'accordo appunto che le organizzazioni criminali utilizzano il sistema del gioco d'azzardo per i propri interessi e quindi per il proprio proliferare il proprio settore e i propri traffici utilizzano questo sistema e quindi l'amministrazione di Capitolina deve impegnarsi a sostenere le attività una cosa dove noi eravamo tra virgolette in disaccordo era quello che noi chiediamo da questa proposta di dare eventualmente un incentivo a chi in difficoltà prova ad uscire fuori da questo sistema nel senso da quelle attività che in difficoltà anche territorialmente ma che comunque le videolotterie e quindi le apparecchiature elettroniche eccetera portano loro malgrado portano comunque l'entrata economica cercare di sostenerle non dicendo che sono brave e l'arte che non le accettano sono cattive ci mancherebbe altro ma di cercare di supportarle in un percorso che comunque possa sentirsi si possono sentire coperti da un'amministrazione che va in una direzione e che loro evitando l'installazione di queste apparecchiature stanno sulla strada giusta cercando però di come si dice equilibrare cioè quindi di affivolire il fatto di questa differenza economica che loro andrebbero a perdere rispetto al fatto di non averle quindi io penso che un pochettino bisogna cercare di trovare il modo di sostenere chi si mette da questa parte perché poi sarebbe secondo il nostro modesto parere un viatico cioè sarebbe un meccanismo come si dice collegato che poi ha induzione che poi comunque se lo fanno un po' poi diventa un effetto che si può travolgere ma è un contributo non significa che è la soluzione di tutti i mali significa poter intervenire in questo senso istituire la consulta quindi io penso che voi siete d'accordo nell'istituire una consulta che possa tener conto delle varie figure che comunque la compongono perché può essere uno strumento che viene utilizzato ovviamente nel rapportarci nel raffrontarci nel discutere nel dare come diciamo prima abbiamo sentito anche delle associazioni in tal senso e quindi loro sono anche parte integrante di questa consulta insieme alle amministrazioni che comunque vertono a dare un contributo in quella direzione e l'amministrazione capitolina noi chiediamo che l'amministrazione capitolina prevede all'organizzazione anche di campagne di sensibilizzazione ovviamente quindi questo è un penso che sia un argomento con il quale siamo d'accordo e queste campagne di sensibilizzazione fatte soprattutto fatte soprattutto nelle scuole non dico alla materna per l'amor di Dio ma comunque nelle scuole medie superiori perché anche da lì c'è prevenzione io lo dico anche al Presidente della Commissione Scuola che con la testa mi fa così che significa che possiamo discutere anche successivamente nei modi nel perché nel per come poter intervenire su questa sul settore scolastico e quindi noi lo chiediamo questo e quindi penso che ci troviamo d'accordo su questa fase poi è normale che diciamo che come diceva prima il collega il Dipartimento ha detto che tra le due ovviamente reputa opportuna quella precedente come risolve come proposta e quindi se è così ha dato un parere un pacchetto di parere quindi va bene per quello che ci riguarda ovviamente noi diciamo che le linee guida sono penso anche queste comuni nel risolvere il problema a me fa piacere dirlo quindi la durata dei minori il contenimento dei costi sociali umani ed economici derivanti dall'assiduità del gioco d'azzardo con particolare riferimento alla ricaduta negativa che detta assiduità comportano in un contesto familiare e sociale quindi andiamo a toccare veramente lo strato più interno di una comunità che è quello poi anche familiare dove molte famiglie si trovano in difficoltà per questo la necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome appunto del gap del gioco d'azzardo patologico e dalle ricadute negative che essa comunque oltre che in termini ingenti di spesa sanitaria perché poi incide fortemente sul costo della spesa sanitaria determina nella dimensione privata come dicevo prima lavorativa e cittadina la tutela della sicurezza urbana del decoro urbano della quiete della collettività l'amministrazione si impegna attraverso la raccolta e l'aggiornamento annuale dei dati a monitorare puntualmente gli indicatori quanti qualitativi descrittivi all'incidenza del fenomeno sul territorio e adottare conseguentemente tutte le azioni che ci rendono necessarie anche questo penso che non possiamo non essere non essere d'accordo poi noi abbiamo messo anche una parte che prevede la premialità quindi prevedere il rilascio da parte dell'amministrazione capitolina di un contrassigno di riconoscimento per gli esercizi commerciali virtuosi quindi anche identificare quelli che comunque hanno voluto prendere questo percorso ovvero per coloro i quali sceglieranno di non installare apparecchiatura dicevo prima per il gioco d'azzardo lecito all'interno esercizio commerciale e per coloro che decideranno di rinunciare quindi l'amministrazione capitolina concedere sgravi fiscali poi nelle forme e nei modi decidetelo voi a livello comunale prevedere uno specifico registro capitolino di esercizi commerciali che aderiranno con tali comportamenti etici alle finalità sovendicate tale registro rappresenterà la banca dati dell'amministrazione capitolina per gli eventuali sgravi fiscali sulle imposte comunali per esercizi commerciali che rinunciano agli oneri provenienti dall'installazione all'interno dei propri locali di apprecchiature di gioco d'azzardo anche questo è un altro suggerimento per come l'apertura di mille metri e chiudo presidente l'apertura di mille metri noi abbiamo detto aumentiamo la distanza proprio perché andiamo nello stesso verso voi ci dite che aumentare la distanza significa spostarci dalle linee nazionali e quindi essere sottoposti a ricorsi che comunque ormai è facilmente fare quindi è di facile attuazione e propositività quindi qui si fanno i ricorsi a rotta di collo come si dice Roma per cui dice se mettiamo mille metri ci troviamo un po' scoperti noi a maggior ragione mettiamo i mille metri per cercare di dare meno forza quindi non possiamo siamo dalla stessa parte e mi sembra che poi i risidi sensibili da silenito a scuole di ordine e grado ospedali centri educativi e culturali luoghi di culto compresi cimiteri casi di cura e di riposo mi sembra che ci siamo messi tutti manca solo casa mia chiaro mi sembra che pure lì siamo andati siamo andati no? o casa tua tutti io non lo so però l'abbiamo messe tutte quindi non potrà essere autorizzata l'apertura di sali del gioco in edifici vincolati dal senso del codice dei beni culturali e paesaggistici nei edifici che ospitano civili abitazioni e loro pertinenze quindi anche le nostre sono salvate lo dico poi per il resto insomma non è che ci stiamo a raccontare l'abbiamo valutata noi abbiamo ci siamo astruti sulla vostra per senso di responsabilità ci auguriamo che voi possiate fare lo stesso sulla nostra che non significa essere d'accordo o essere contrari ma significa che il tema l'abbiamo dentro ai nostri cuori quindi ci teniamo che questo municipio possa essere parte integrante di un percorso di questo tipo non lasciamo nulla al caso ok? ma siamo vigili e quindi se ovviamente questa proposta anche non la volete approvare ma la volete assenere darete forza non tanto alla nostra ma a voi stessi che avete fatto un'azione diretta dal Campidoglio e come prima abbiamo fatto e avete votato quindi è come fosse una spinta in più propulsiva che anche Fratelli Italia si è messa a disposizione per affrontare in un certo modo questo tipo di problema grazie consigliere Cercuoni prendo giusto qualche minuto senza voler ripetere quanti dati sono stati detti durante questa discussione io però voglio farvi tornare un attimino ad un problema collegato a questo cioè perché si gioca qual è il motivo perché se noi non riusciamo a capire il motivo per il quale si gioca non riusciamo non riusciamo ad intervenire poi su quelle che sono prevenzioni recupero e responsabilità e un dato importante è quello che nelle periferie si gioca molto di più allora come probabilmente qualcuno già ha detto il problema è l'abbandono sociale un cercare un rifugio e la sicurezza nel gioco nel gioco d'azzardo e cioè quell'emozione effimera tant'è che molti studiosi hanno definito il gioco d'azzardo come quella nuova dipendenza senza droga e non a caso i dati ci dicono che poi le famiglie più povere sono anche le famiglie che spendono di più in questo senso una consulta permanente che è prevista poi nell'atto è un modo per creare una un costante tra virgolette un costante controllo una costante vigilanza su quello che sta accadendo e che accade non solo negli adulti ma sta accadendo anche nei bambini in generale Fratelli d'Italia si è espresso più volte contro le lobby e ha ammesso che ha ammesso piuttosto più che ammettere ha accusato i governi passati dello sconto esagerato che sono state fatte alle società che giustiscono il gioco d'azzardo e in particolare ricordo come il governo Letta definì lo sconto che venne fatto proprio dal PD come il condono della vergogna cioè lo sconto enorme che viene fatto a queste grandissime società che gestiscono il gioco d'azzardo e che non rinvestono e che non sono obbligate poi diciamola tutta neanche a rinvestire su quella che dovrebbe essere la prevenzione e il recupero delle persone che vengono affette da tale patologia allora noi ci dobbiamo rendere conto che non è possibile un'abolizione totale perché vigeremo in un in un paese nel più grande proibizionismo diverso è però limitare e far capire alle persone lì dove sono i problemi e lì dove si può si può accadere e il problema appunto è quello poi di legalizzare invece quelle che possono essere le forme anche più inimmaginabili cioè esistono macchine slot machine per i bambini cosa che non non avremmo mai potuto immaginare e non solo magari quindi prevedere evitare cioè evitare abolire non le slot machine ma le pubblicità ingannevoli ossia quelle pubblicità che ti dicono ti piace vincere facile non si vince con le slot machine i dati lo dimostrano e questo dobbiamo far sapere quindi anche attraverso io questo la lancio sempre come proposta quando magari ci capita di parlare di problemi non solo concreti come può essere insomma i cassonetti i lampioni le illuminazioni le strade ma di parlare anche di problemi sociali parliamone nelle scuole perché è lì che dobbiamo iniziare vedendo l'aumento del numero dei giovani che giocano alle slot machine chiudo semplicemente dicendo che avrete sentito recentemente giusto un mese fa la stessa presidente dei fratelli d'italia chiedere anche alla figgc alla federazione italiana gioco calcio di dire no al gioco d'azzardo ed è un modo per far capire che il cambiamento deve partire congiuntamente dalla politica con una normativa adeguata con sanzioni più severe ma anche da quelle grandi società anche di calcio che ovviamente hanno insomma un ruolo importante in questa il calcio così come i cavalli così come tanti altri insomma lobby se così vogliamo chiamarle hanno un ruolo importante nella limitazione di questi dei danni che possono che possono essere cioè cochiudo semplicemente ricordando il ruolo fondamentale della prevenzione e del recupero perché tantissime persone non credono di essere affette da una patologia ma pensano di poterne uscire e più ci si tira fuori più ci si pensa di potersi curare da soli più invece si cade nello stesso meccanismo sono tanti anche le persone insomma molto conosciute note della televisione che sono cadute in questa trappola e quindi io credo che dai giovani come per tante altre cose debba partire un'informazione una consapevolezza di quello che è il rischio del gioco d'azzardo riteniamo che questo atto di Fratelli d'Italia vada in questa direzione chiediamo ovviamente di partire da qui anche per un lavoro congiunto se si vuole fare all'interno delle scuole e niente Fratelli d'Italia è favorevole grazie altri interventi consigliera Triputi sì grazie presidente io volevo allacciarmi a ciò che ha detto poc'anzi la consigliera perché nella precedente deliberazione che abbiamo votato io avevo fatto cenno al discorso della pubblicità perché in effetti le società calcio ma anche per esempio nel settore manufatturiero eccetera hanno questa abitudine di investire cioè le società di gioco d'azzardo spendono 187 milioni di euro per la pubblicità quindi è ovvio che è un cancro che deve essere debellato perché la sensibilizzazione può avvenire solo quando non si pubblicizza quello che fa male e per quanto riguarda invece il discorso che il gioco d'azzardo colpisce le fasce deboli non è un caso non è un caso che c'è stato questo aumento questo incremento proprio nel periodo di crisi perché proprio quelle pubblicità ingannevoli nei soggetti che comunque hanno delle fragilità a livello economico a livello emotivo a livello proprio sociale causato appunto da queste problematiche che la crisi ha causato è ovvio che si dà una certa speranza il vincere come a volte capita il vitalizio per vent'anni quando viene raccolto da un soggetto che ha dei problemi di lavoro magari è stato licenziato oppure ha una pensione che non gli consente di arrivare alla fine del mese e questa pubblicità è a livello martellante e alla fine si convince anche perché dietro al gioco d'azzardo un cittadino con delle fragilità non può capire che ci sono delle insidie e soprattutto proprio perché è fragile non capisce che da lì a poco può entrare in quel in quel vortice che ti porta poi al gap io lo chiamo gap e non ludopatia attenzione perché il gap e ludopatia sono proprio due termini completamente diversi il gap è proprio un qualcosa di più profondo e ce lo dice proprio l'osservazione mondiale quindi volevo solo ribadire questi due concetti grazie altri interventi consigliere Toti una battaglia difficile quasi impossibile però dobbiamo farla mi è piaciuto la consigliere Cercuoni quando ha detto ho parlato delle periferie romane io dico le periferie del mondo io quando sono andato a visitare magari paesi dell'estero o paesi sottosviluppati ho visto che il discorso del gioco è un discorso centrale rispetto proprio alla società è un discorso importante perciò c'è un discorso io dico soprattutto sociale ma non solo sociale c'è un discorso che coinvolge chiaramente le istituzioni quando si parla di consulta chiaramente le istituzioni devono essere anch'esse centrali rispetto a questo dibattito rispetto alle nostre proposte deve essere centrale il discorso culturale perciò anche la scuola la scuola non può essere senz'altro tralasciata poi c'è un discorso che è di tipo anche psicologico perciò l'intervento psicologico l'attenzione psicologica a questi a questi problemi io dico poi perché io dico è una battaglia quasi impossibile che comunque dobbiamo vincere perché poi c'è il risvolto della criminalità la criminalità lì dove lo Stato non chiaramente non dà gioco regolare diciamo interviene la criminalità che anch'essa presente a livello di bar di sale gioche magari che noi e si suppone siano regolari però poi se noi usiamo un discorso di proibizionismo chiaramente quando manca il gioco offerto dallo Stato interviene la criminalità e purtroppo abbiamo visto che specialmente nel sud Italia non siamo riusciti anche nel passato a arginare il discorso di criminalità rispetto al gioco d'azzardo ecco voglio dire perciò questo discorso lo dobbiamo sempre tenere presente c'è anche quest'altro discorso col quale dobbiamo con cui dobbiamo fare i conti ecco perché veramente il toro per le corna però ci deve essere una mobilitazione a tutti i livelli ci deve essere una mobilitazione a tutti i livelli perché voglio dire non si deve pensare al discorso del gioco come cancro ma del gioco del discorso del malato noi dobbiamo ecco neanche il discorso del proibizionismo rispetto a no non giocare no no puoi giocare però non ti devi ammalare rispetto al gioco e questo è un discorso anche difficile da fare perché quando si parla di discorso di proibizionismo ci stanno quelli che dicono hai proibito allora è bello voglio dire è un discorso è un discorso è un discorso che richiede molta molta attenzione molta forza molto impegno da parte delle istituzioni per questo io oggi sono portato a votarle tutte e due favorevolmente perché sia nell'impostazione generale sia nelle linee guida io trovo una una somiglianza rispetto alle due proposte poi ci sono delle cose che ha detto anche il consigliere Fulvio Giuliano non capogruppo consigliere Fulvio Giuliano vicepresidente del consiglio e ad esempio rispetto alla premialità questo mi piace molto a me il discorso della premialità però poi voglio dire ci sono anche altri discorsi interessanti nella proposta che noi andiamo a votare oggi rispetto a quello che ha detto che hanno proposto i 5 stelle capitolini perciò hanno bisogno tutte e due magari di modifiche di aggiungere qualche altra cosa però voglio dire c'è questo impegno questo impegno a livello cittadino che è molto importante e che penso che porterà a riuscire a trovare voglio dire un nuovo regolamento che dia più forza a coloro ecco che combattono questa battaglia come ho detto difficile e che vede Roma in testa ecco dopo Pavia Roma si trova veramente in una situazione in una situazione difficile perciò benvengano queste due proposte che io penso che si possano magari a livello cittadino anche integrare e benvenga anche una costituzione di una consulta anche a livello municipale anche un impegno ecco che deve perché se no è inutile che noi deleghiamo sempre agli altri dobbiamo anche noi nelle varie commissioni scuola sociale cominciare a pensare con forza anche a un impegno nostro rispetto a questo problema perciò voto a favore grazie ci sono altri interventi se non ci sono interventi ci sono dichiarazioni di voto mi sono ovvie quindi procediamo direttamente alla votazione vi ricordo che la parere era contrario sulla delibera favorevoli alla delibera così com'è con parere contrario non abbiamo capito il messaggio questa è ok contrari nessuno ha stenuto e quindi viene approvata la delibera con parere contrario perfetto 14 presenti l'amazone dunque sì 11 contrari ah scusate stanchezza stanchezza un po' di febbre ce le mettiamo tutte oggi assolutamente sì ripeto ripeto no 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 lui ha sbagliato voleva stene no voleva votare come loro favorevole allora si che ripeto si perfetto quindi è contrario alla delibera che è contrario allora ripetiamo i favorevoli alla delibera così com'è sono 11 i contrari 3 perfetto è rimasto un punto si è votato bene a favore sì 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 assolutamente allora passiamo all'ultimo punto perché c'è un punto che non è all'ordine del giorno ma sappiamo che è stata depositata questa mattina una mozione urgente ex articolo 58 ed è a firma di dei consiglieri Cerconi e Carlone ed è relativo al bando di gara europea procedura aperta sensi dell'articolo 59 60 volta alla conclusione di un accordo quadro con più soggetti economici per l'affidamento dei servizi di accoglienza e dei servizi connessi ai cittadini stranieri richiedenti asilo per il periodo dall'inizio alla fine del 2017 per un importo totale di svariati svariati euro io direi giusto qualcuno IVA esclusa per l'accoglienza di 8.074 posti diciamo per correttezza perché in genere menzioniamo quando ci sono altri atti che sono simili devo intanto informare i consiglieri che abbiamo un atto già simile depositato c'è un'interrogazione se non sbaglio del consigliere Giuliano di una settimana fa quindi sullo stesso argomento quindi con le stesse più o meno domande poste sì va bene ma è posta sulle stesse diciamo argomentazioni sto leggendo adesso l'impegna io stamattina non ero qui all'inizio quindi lo sto leggendo adesso e quindi adesso evidentemente questa è una cosa molto sentita da Fratelli d'Italia perché è già il secondo diciamo atto che noi riceviamo sul tema e quindi lo volevo far presente a tutti i consiglieri eh sì è vero abbiamo uno scrutatore abbiamo perso esatto sostituiamo uno scrutatore per la votazione precedente esattamente va bene per la votazione precedente consigliere Candigliota era benissimo veniamo a questa a questo punto consigliere Acercuoni lascio a lei la parola per la presentazione per la relazione allora la mozione è una mozione urgente perché ovviamente visti i tempi dell'espletamento del bando riteniamo che il consiglio debba debba esprimersi nel più breve tempo possibile io vorrei solo per chi non l'avesse già fatto ricordarvi quali sono gli estremi di questo bando che ha dell'incredibile allora noi parliamo di un'accoglienza di 8.074 posti per ben 103 e passa milioni di euro ora per il periodo dal 1 gennaio 2017 al 31 12 2017 ovviamente l'appalto non è un appalto esclusivamente su questo territorio ma è un appalto che prevede la lottizzazione in ben 6 lotti territoriali nell'ambito dei quali poi sono vengono ripartiti appunto i soggetti ospitati e che possono essere accolti per ciascun comune o municipio e per quanto riguarda il nostro municipio nel bando emanato dalla prefettura che è la stazione appaltante si legge che per i comuni o i municipi sopra i 100.000 abitanti viene fissato un tetto massimo di 400 posti e che l'ente gestore ossia il vincitore dell'appalto si impegna a garantire non solo accoglienza e assistenza ma ovviamente tutta la parte tecnico amministrativa servizi di pulizia igiene ambientale erogazione pasti servizi per l'integrazione assistenza psicosocio sanitaria formazione riqualificazione professionale il settimo municipio rientra nel lotto numero 2 insieme ai municipi 4 5 6 il nostro il settimo 8 e 9 per un totale 1.158 posti e per una somma pari a quasi 15 milioni di euro diciamo proprio che non stiamo parlando di una cifra irrisoria ma è più della metà del nostro bilancio municipale per darci un'idea delle cifre di cui parliamo se si fa un rapido calcolo si capisce che 15 milioni sono 14.793 diviso 1.158 persone parliamo a testa di 1.064 euro ora quello che è stato evidenziato anche nell'atto è che 1.064 euro è più di quanto tantissime persone sul territorio del nostro municipio riescono ad avere per far fronte ai problemi di spesa di quindi di vitto di alloggio e di quant'altro cioè noi spendiamo per chi arriva più di quanto in media la nostra popolazione ha per poter sopravvivere e già questo è il punto che insomma mi sembra abbastanza insomma mi sembra non voglio usare altre parole mi sembra insomma denoti una situazione particolare io ho reinserito anche perché delle indagini rese note nel dicembre del 2014 che oltre a sottolineare i problemi che ci sono stati con le cooperative in merito alla gestione delle popolazioni migranti hanno anche creato insomma c'è stato un vero e proprio una vera e propria collusione con le parti politiche e quindi un malaffare dilagante questo perché perché è vero lo dimostrano le cifre l'immigrazione è un reddito sostanzioso e ricordiamoci che qui dobbiamo fare la distinzione poi tra gli SPRAR e tra i CAS i famosi CAS che vediamo in giro per tutta Italia ossia i centri di accoglienza straordinaria non sono soggetti al minimo controllo di bilancio che può essere fatto invece sugli SPRAR perché dico questo? perché nel momento in cui ad una struttura vengono affidate 300 persone e vengono pagate quindi mensilmente quelle 300 persone se dopo due giorni da 300 diventano 250 noi continuiamo a pagare per quelle 300 persone non ci sono controlli su queste strutture io vi invito a farvi un giro in Torsapienza ma anche in tanti altri posti dove la situazione non solo è vergognosa dal punto di vista economico-finanziario e quindi di mancanza di controlli ma non esistono neanche tutti gli altri servizi sanitari gli altri servizi di assistenza anche all'integrazione cioè questo è un sistema di assistenzialismo vergognoso che ha creato solo problemi a chi vive all'interno e alle popolazioni circostanti perché questa è la realtà e noi continuiamo a spendere 103 e fiorfiore di milioni di euro per non avere nulla perché noi da questa situazione non tireremo fuori nulla non abbiamo uno sviluppo conseguenziale per cui dall'oggi al domani dopo un anno queste persone vengono gestite in un altro modo vengono anche mandate in altri paesi europei come molti di questi chiedono questo non succede stazionano perennemente in alcuni edifici dove vengono stipati anche 400 persone perché questo succede e vengono lasciati lì la lingua italiana il partecipare alle insomma alle attività organizzate dalle associazioni che se ne occupano è facoltativo quindi molti di questi a seguito di un anno non parlano neanche italiano e noi continuiamo imperterriti a pagare ma questo lo dico perché la ripartizione poi che è stata che è stata fatta al di là del fatto questo apro e chiudo parentesi che si parla nel bando di richiedenti asilo ma voi sapete che solo il 5% poi dei richiedenti asilo hanno veramente le caratteristiche dei richiedenti asilo e quindi quello là si apre un altro mondo ma adesso sarebbe inutile anche iniziare a toccare le quote dei migranti economici le quote perché sarebbe un po' troppo complesso e probabilmente servirebbe servirebbe un'ora di 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 insomma di illustrazione ma quello che ci che ci preme evidenziare è come sul nostro territorio o meglio sui territori la ripartizione in quote che è stata prevista non ha assolutamente tenuto conto degli arrivi che già sono avvenuti e delle situazioni di emergenza che già ci sono cioè ti dicono allora io te ne mando 8.074 perché in base alla popolazione noi sappiamo che tu come quota ne puoi ricevere 8.074 Roma e provincia di Roma però che cosa succede? Io ne posso ricevere 8.074 in base alla popolazione ma quelli che già ci sono e noi li abbiamo considerati perché si riparte da zero quindi adesso noi quest'anno ripartiremo da zero e sono 8.074 l'anno prossimo nuova ripartizione perché gli sbarchi continuano ad esserci nuova nuovi 8.074 ma me li hai già mandati lo scorso anno sì ma noi riniziamo sempre dopo quindi alla fine vai a vedere da qui a tre anni diventano 25.000 più o meno 25.000 30.000 solo sul comune di Roma una situazione imbarazzante allora io io come Fratelli d'Italia abbiamo voluto in qualche modo anche esplicitare il fatto che sul nostro municipio insistono diverse situazioni di disagio e abbiamo Palazzo Salam abbiamo Campofarnia la Barbuta gli insediamenti abusivi di via Walter Procaccini abbiamo delle situazioni alcune che sono delle bombe ad orologeria e che quindi permettetemi di dire ci consentono anche di fare una riflessione importante su quelli che potrebbero essere gli arrivi e che tali e poi tali situazioni diciamoci la verità sono anche state già attenzionate perché all'interno degli stessi campi o degli stessi insediamenti abusivi già ci sono problemi tra le diverse etnie cioè noi stiamo mettendo sul territorio romano delle bombe ad orologeria e forse qualcuno se ne rende conto ma con il paraocchi tira dritto allora quello che vogliamo in qualche modo segnalare di impegnare è il presidente del municipio Roma 7 ad attivarsi presso il sindaco di Roma affinché venga resa nota alle prefetture al comune di Roma l'indisponibilità di questo municipio ad accogliere se noi facciamo un calcolo delle persone che abbiamo su questo territorio questo territorio è già saturo in base alle quote di ripartizione che non hanno però tenuto conto delle situazioni che già sono sul territorio e voi capite bene l'abbiamo sempre detto che quando si prendono delle decisioni senza valutare e considerare le situazioni dei territori alla fine si sbaglia perché un territorio non è uguale ad un altro e su questo territorio già abbiamo numerose presenze e poi ovviamente ad attivarsi presso la struttura appaltante prefettura ufficio del governo per avere conoscenza immediata del numero di richiedenti asilo previsti sul territorio perché che cosa ti dicono nell'otto non sono poi specificate però gli arrivi sul singolo territorio io come faccio a sapere come municipio 7 se me ne spettano 200 300 400 e questo è un altro punto interrogativo tra l'altro il comune di Roma lo faccio presente a tutti quanti è sicuramente stato coinvolto in queste decisioni il problema è che se il comune di Roma io mi auguro che il municipio sia stato altrettanto coinvolto il problema è che se il comune di Roma non ha coinvolto il municipio dall'oggi al domani probabilmente anche di notte succederà il cataclisma perché arriveranno come è successo in tanti altri posti succederà che le persone che vedono questi arrivi senza essere state informate senza capire quello che sta succedendo ovviamente cercheranno di difendere penso la propria la paura che hanno anche nel vedere una situazione del genere e quindi non solo il numero di richiedenti asilo ma anche le strutture in cui verranno ospitate cioè ma è possibile che questo bando parte il primo gennaio e noi non sappiamo niente non sappiamo nulla dove quando quanti perché il numero non è una stupidaggine un conto è metterne su una struttura 200 un corto e metterne 20 capite che cambia anche a livello di impatto con i cittadini cioè è fondamentale allora io chiedo semplicemente che venga presa in considerazione l'impegno che semplicemente dice noi siamo in parte già saturi ma comunque pur essendo già saturi fateci sapere che cosa dovete fare perché se vogliamo essere amministratori e avere una visione di questo territorio non possiamo non sapere quello che accade in questo momento noi tra 15 giorni avremo degli arrivi e non sapremo né che cosa dire né tantomeno come comportarci in virtù di questo è stato depositato ex articolo 58 per l'urgenza che vi ho che vi ho mostrato e spero che questi caratteri di urgenza e di straordinaria insomma di urgenza e anche di importanza siano stati rilevati e comunque considerati bene dal Movimento 5 Stelle che chiama ad una riflessione ad una riflessione seria siamo a disposizione per ulteriori insomma spiegazioni a riguardo se avete bisogno anche del del bando della prefettura ve lo posso ve lo posso mostrare dove sono indicate tutte le cose che sono riportate linearmente nella nella mozione e prendiamo coscienza di un problema che sta per arrivare e che sarà adesso ma anche per il futuro grazie allora a prescindere se l'entrare nel merito o no della mozione che è stata presentata cioè trovo trovo veramente assurdo a volte io mi rendo conto che forse non se ne fa neanche non lo si fa neanche apposta però spesso e volentieri parliamo di numeri come se stessimo parlando di oggetti mandri e bestiame qualcosa del genere cioè di fatto queste sono persone che nel loro paese subiscono la guerra e a prescindere se sia giusto se abbiamo se abbiamo le possibilità per ospitarli o no cioè io credo che comunque ci sia una dignità e questa dignità queste persone l'hanno già persa nel loro paese quindi io trovo trovo veramente ingiusto a volte di sentir parlare di numeri come se fossero veramente oggetti chiederei solamente ecco una cosa fondamentale il rispetto per l'essere umano poi se si può vedere se si possono ospitare se non si possono ospitare quello lo possiamo vedere ma io credo che i vocaboli che si usano forse sarebbe più consono riflettere magari su chi su chi come esseri individui stiamo parlando grazie altri interventi intervento considera Toti mi comincio a preoccupare perché prima condividevo la mamma mia adesso condivido Candigliota no lo so voglio dire queste maggioranze a zig zag chiamiamole pure voglio dire sono persone che scappano dalla guerra sono persone che scappano dalla guerra io capisco c'è da distinguere immigrati clandestini non regolari immigrati clandestini e profughi questa è una prima divisione qua io trovo in questa mozione un po' un miscuglio rispetto a questo io vorrei che fosse ben preciso il discorso diverso fra immigrazione clandestina economica e discorsi legati ai profughi perché forse noi non apriamo a dovere la nostra televisione e voglio dire la concentriamo sulla Siria su altre zone di guerra sull'Isis e vediamo che questa gente su Assad vediamo sulla Russia sugli interventi americani i bombardamenti i bombardamenti anche rispetto a ospedali hanno sparato sulla croce rossa in Siria l'altro giorno voglio dire rispetto a questo ci stanno poveracci disgraziati che sulle barche dopo aver subito maltrattamenti violenze in Libia prendono dopo aver subito violenze in Libia i disdicevoli prendono questi barconi con la paura di morire quando attraversano il Mediterraneo e arrivano in Italia perciò ecco questo che oggi noi dobbiamo centrare non il discorso dei campi nomadi ne abbiamo già parlato e io capisco la sofferenza dei cittadini rispetto alla situazione dei campi nomadi capisco la sofferenza dei cittadini rispetto al discorso dell'immigrazione clandestina però qui stiamo parlando e noi abbiamo queste sofferenze nel nostro territorio qui stiamo parlando invece di profughi quando c'è scritto i dati a seguito di accettamenti effettuali dimostrano che solo il 5% dei gradenti ha effettivamente e questo è un dato certo forse invece che il 5 sarà il 10 o sarà il 7 comunque c'è una minoranza questa è la responsabilità dell'Europa dell'Unione Europea anche e anche qualche cosa ce l'ha anche lo Stato Italiano però voglio dire è questo di non essere riusciti come Unione Europea non solo di ipoeconomico non essere riusciti a trovare delle situazioni diverse delle proposte serie rispetto agli Stati africani riuscire a all'origine a fermare questa situazione a colpe dei francesi contro i libici a colpe di questo a colpe di quell'altro però purtroppo ci troviamo in questa situazione che arrivano questi disgraziati io capisco anche la situazione come è stato detto precedentemente della pesantezza già che noi viviamo nel nostro territorio però quello che io invito in questo caso 5 Stelle che l'invito che faccio a loro è quello di vedere realmente in commissione servizi sociali io purtroppo non faccio parte della commissione servizi sociali quella che è la situazione vera rispetto ai rifugiati nel nostro territorio dove sono se ci sono qual è il numero dei rifugiati incominciare a fotografare a vedere a mettere un faro rispetto a quella che è la situazione del nostro municipio rispetto al tema dei profughi dei rifugiati dei rifugiati il discorso ecco rispetto a questo capire che noi stiamo già in difficoltà però vedere quella che è la situazione oggi e vedere caso mai dobbiamo essere noi caso mai se c'è il dovere in un certo senso di ologamere dell'ospitalità anche perché noi siamo stati ospiti in tanti paesi siamo andati nel mondo gli italiani 2 milioni 10 milioni qua 2 milioni e là 500 mila in un'altra parte e siamo stati pure accolti abbiamo lavorato abbiamo contribuito allo sviluppo di quei paesi io dico che comunque dobbiamo sapere dove noi proponiamo se è il caso di ospitarli cioè non è che questa ospitalità deve essere calata dall'alto dalla prefettura che ecco voglio dire perciò noi il tema è un tema che è un tema di civiltà io penso il tema dei profughi è come affrontarlo è un tema di civiltà rispetto a questo dobbiamo fare una riflessione tutti insieme a livello municipale in commissione decidere e vedere la situazione moderna rispetto ai profughi e la situazione rispetto a luoghi dove noi possiamo ospitare se dobbiamo ospitarli i profughi in modo che la situazione sia armonica rispetto ai cittadini che si trovano nelle vicinanze dei luoghi dove andranno dove andranno per non creare chiaramente ulteriori situazioni di tensione anche se ci dovrebbe essere l'amore dei cittadini nei confronti di chi scappa dalla guerra però noi capiamo che i modi di vedere le cose sono anche differenti non dobbiamo chiaramente incrementare come ho detto in precedenza rabbia sociali rispetto anche a questo problema perciò dobbiamo trovare una situazione che sia di accoglienza condivisa nel territorio in modo che riusciamo a fare veramente un discorso di integrazione e di aiuto a popolazioni sofferenti ci sono altri interventi consigliere Giuliano grazie presidente allora per quanto riguarda ovviamente questo argomento io appunto avevo presentato il 7 dicembre un'interrogazione perché perché a differenza di una mozione di questo tipo quello che preoccupava su questo municipio è sapere tramite appunto un'interrogazione perché il meccanismo purtroppo è prefettizio e quindi la prefettura ha deciso autonomamente nel fare questi bandi che non sono uno ma sono ben due e che sono comunque problematici anche per il nostro municipio sicuramente avrà avuto degli input nazionali avrà avuto degli input dal ministero e quello che sarà ma comunque la prefettura ha ritenuto indispensabile fare questi due bandi uno è quello che appunto è stato esplicitato con 8.074 migranti che arriveranno nella comune di Roma e nella provincia di Roma circa più di 3.000 sono fra i municipi di Roma sud-est quindi quarto quinto sesto settimo ottavo e nono fino al decimo e poi altri 1.500 passa nella provincia diciamo di rispetto quindi Frascati Grottaferata Marino eccetera eccetera quindi paesi Palestrina Zagaro paesi dimitrofi quindi una presenza importante dovrebbe arrivare il problema è che nell'interrogazione noi avremmo chiesto e quindi io ovviamente aspetto che questo può aver discussa prima possibile perché quello che a noi interessa che a me interessa è capire effettivamente se questo municipio visto che è prefettizia la cosa che questo municipio o l'amministrazione comunale sia a conoscenza di tale meccanismo e se ha conoscenza di tale meccanismo come se ha delle notizie perché ovviamente il risultato qual è è che a noi arriveranno su questo municipio diverse un paio di 100 200 300 persone migranti e non sappiamo se questi sono i numeri non sappiamo dove verranno allocati quindi poi si parlava del Catasto tempo fa si parlava anche di un albergo a via Campo Romano che tra voci di popolo quindi cominciano a essere abbastanza preoccupanti e quindi noi già siamo molto penalizzati in questo municipio e quindi capire che cosa avrebbe fatto la nostra presidente in tal senso ora il meccanismo è già trattato a livello comunale perché so che c'è anche lì un'interrogazione a livello comunale depositata sempre da Fratelli Italia che chiederà alla sindaca la stessa identica richiesta per quanto riguarda ovviamente il meccanismo perché un'interrogazione comunque era lo strumento per allarmare questa giunta questa nostra presidente e la giunta non su una decisione presa così diciamo oggi o domani o dopodomani ma proprio sull'andamento della verifica di questo che poteva succedere quindi seguire pedistiquamente cioè la vicenda tutta la procedura per capire perché qui nessuno ci dirà la prefettura viaggia per conto suo non è che ti dice prima ti avverte come quando è successo pure quando c'era il discorso del Cinecittà noi l'abbiamo saputo tramite voci di quartiere voci diciamo di corridoi ma per avere la certezza sono passati i giorni cioè verso proprio il giorno prima per cui poi si sono mossi la gente e quindi è stato fatto un'azione di di contrasto in tal senso ma la cosa che poi procua quindi l'interrogazione come stimolo a questa attenzione ma la cosa che preoccupa è il fatto che c'è un altro bando quindi la la ricerca di un hub addirittura per mille posti o eventualmente due da 500 che comunque sempre la prefettura ha fatto per la città metropolitana ora uno dice ma è un'altra cosa dico sì però se pensate che le richieste e i criteri che sono elencati in questo secondo bando sono talmente precisi che una struttura che possa ospitare con quelle condizioni è solo una struttura ricettiva di grandi dimensioni quindi un albergo che può contenerle che ha comunque cucina sale ritrovo bagni camere tutto dedicato eccetera e a me viene per esempio in mente tanto per farvi capire qual è la struttura che potrebbe essere ricettiva l'hotel Cavannelle per esempio non dico che è quello però è una struttura che avendo un curatore fallimentare e avendo la possibilità di avere circa 500 600 posti che ne sai potrebbe essere uno di quelli che comunque sai no per risanare o per far arrivare i miei soldi eccetera potrebbe essere utilizzato allora il problema non è la parte economica cioè non è quanti soldi si spendono il problema è l'opportunità di avere di prevedere questo tipo di problema cioè e capirlo cercare di capire come affrontarlo perché se questo viene fatto senza comunque la compartecipazione di Roma Capitale e ovviamente anche quindi dei municipi è normale che diventa un problema diventa un grande problema di sostenibilità civile in quanto poi non è che noi insomma siamo sprovvisti tra come diciamo prima il Palazzo Salam e la Barbuta ne sono già due esempi fondamentali ma per evitare che poi comunque sia ci siano degli spazi che su questo municipio sono molto allettanti a differenza di altri quindi il secondo è ancora più preoccupante del primo in bando perché una struttura di quel tipo non la puoi trovare in un paesino chiaro che non la provincia di Roma perché città non vediamo lo trovo in una città come Roma in un municipio di Roma e probabilmente in un municipio come il nostro che potrebbe essere tra quelli più grandi cioè quelli che ha più curazione quindi quelli che potrebbero ospitare tale tale situazione la differenza che diceva il collega Toti purtroppo nel dire appunto tra clandestini e profughi c'è anche l'embarco i profughi hanno la loro identificazione e quindi hanno lo status i clandestini ne hanno un altro purtroppo è volontà di questo stato italiano non mettere a disposizione delle figure delle difficili delle supprezioni delle proposte a far sì che sia staccapire in pochi mesi in due o tre mesi se nel clandestino o profughi perché se questi vanno avanti due anni che sono mantenuti dall'arco delle nostre strutture non sapendo se sono con cui pensano se non sono dei profughi dei clandestini è normale che questo diventa un grosso problema perché poi quando abbiamo capito che sono profughi non li troviamo più lì dentro perché stanno in giro per l'Italia o per l'Europa perché giustamente quelli il mezzo che avevano lo utilizzano per spostarsi eccetera oppure se sono grandestini li troviamo più per imparviarli e mandarli in un'altra parte quindi i tempi fanno sempre la differenza per cui se ci fosse appunto la squadra all'Ira Nazionale il Ministro degli Interni mettesse a disposizione non dieci persone che fanno questo lavoro ma cento noi allora avremmo risposte certe in tempi brevi per cui probabilmente non avremmo neanche bisogno di fare un bando per mille posti se sappiamo che i profughi sono de meno di quelli che effettivamente poi ci propinano ok perché è normale che nessuno vuole il mare di alcune persone che si trovano in difficoltà come diciamo prima abbiamo parlato di Roma e quelli regolari quelli che si possono integrare per l'amor di Dio gli italiani che stanno messi male e quelli che possono essere aiutati per l'amor di Dio e i migranti che sono profughi per l'amor di Dio però cerchiamo pure insomma di difendere quello che abbiamo sul nostro territorio se no qui chiunque viene fa un po' come gli pare ma non era contro di te cioè era per dire no era per dire argomento generale prendo spunto prendo spunto per cui per cui dico sembra anche un po' come si dice non carino dire che sembra che uno non gliene può fregare di meno non è così ci mancherebbe altro però a fronte di 500.000 migranti che sono entrati in Italia chiaro se facessimo questo questo censimento potersi noi ci avremmo 100.000 capito profughi e 400.000 clandestini beh cambierebbe tutta la politica della diciamo dell'accoglienza no perché i numeri sono altamente differenti nell'incertezza nell'incertezza prendiamo tutto e aspettiamo che qualcuno oppure che Gesù Cristo riesca a trovare la soluzione quindi questo era intanto la situazione è complicata Presidente e io nel frattempo dico che appunto c'è ora la Presidente non c'è ma penso che questa interrogazione gli sia arrivata e che serva che possa essere utile per come si dice monitorare la situazione ma non da oggi già da quando gli è stata mandata quindi dal 7 dicembre perché quello che serve è capire quello che succederà ok e quello che la Prefettura poi farà perché la cosa imminente è il primo gennaio ci siamo grazie altri interventi consigliere Principato grazie Presidente colleghi consiglieri io vorrei ritornare un attimino coi piedi per terra no? perché si fanno un sacco di numeri di cose eccetera però poi probabilmente andando a pressa si perde proprio il significato dei numeri e la realtà delle cose per esempio noi accogliamo in Italia non a Roma in Italia il 9% dei rifugiati un numero bassissimo in confronto al resto degli altri paesi europei a titolo esaustivo la Francia accoglie immigrati con una proporzione 11 su 1000 perdonate la Svezia la Francia 3,5 su 1000 l'Italia un immigrato su 1000 un decimo rispetto alla Svezia premesso che non abbiamo alcun potere decisionale nel merito il quale ricade negli ambiti di intervento delle competenze del Ministero dell'Interno e della Prefettura come già qualcun altro ci ha ricordato in realtà è stata già avviata un'interlocuzione dal Sindaco verso il Ministero dell'Interno e la Prefettura per avere un censimento affidabile e garantire qualora fosse necessario un'equa distribuzione sul territorio municipale per quanto riguarda gli importi di cui si parla all'interno dell'atto quei soldi al netto delle favole delle credenze popolari non vengono erogati alle persone ma arrivano agli enti gestori quindi la barzelletta che gli diamo 35 euro al giorno all'immigrato rimane una barzelletta io penso che sicuramente va rivista tutta la legislazione in questo campo e sicuramente ci metteremo mano se arriveremo al governo perché noi a differenza di altri non vogliamo lucrare sulla sofferenza dei rifugiati i quali vorrei ricordare a questo consiglio sono persone quelle di cui stiamo parlando che arrivano in Italia perché fuggono dalla guerra e dalla fame non vengono in vacanza grazie altri interventi dichiarazioni di voto buon intervento un attimo perché se voleva fare un intervento prima della dichiarazione di voto ah ok allora ok allora sulla base di quanto detto finora il movimento 5 stelle si asterrà verso questa mozione sì per quanto riguarda Fratelli d'Italia voterà ovviamente favorevole alla mozione faccio solo una precisazione l'atto parla esclusivamente di richiedenti asilo perché sono passate il termine l'oggetto cioè l'accoglienza degli richiedenti asilo non parla di profugo o di altro nel momento in cui si arriva e quindi si è richiedente asilo vengono valutate le pratiche quindi noi non sappiamo se chi arriva è profugo o meno sappiamo che più o meno il 5% è poi dichiarato effettivamente persona che ha diritto all'asilo ma per il momento sono esclusivamente richiedenti asilo che è un'altra cosa dei profugi perché ho sentito dire di tutto non c'entra niente cioè sono coloro che arrivano e sono comunque nel momento in cui arrivano senza documentazione degli immigrati clandestini poi bisogna vedere a quel punto se sono soggetti che avendo fatto la richiesta di asilo in base al modello C che viene proposto nel momento in cui sbarcano se in quel caso sono soggetti che hanno effettivamente delle problemate e quindi vengono da paesi in guerra perché tutti gli altri purtroppo che sono migranti economici non sono previsti cioè non è possibile l'arrivo di migranti economici nel nostro paese e quello è un altro problema questo si chiede semplicemente di prendere coscienza del problema e di fare di rapportarsi con la struttura appaltante per verificare qual è la situazione su questo municipio lungi dalla volontà di Fratelli d'Italia di considerare delle persone dei numeri o dei capi bestiami però proprio perché non vogliamo considerarli così ci dobbiamo rendere conto che queste persone che in 200 in 300 vengono schiaffati anche all'interno di un hotel o di una struttura ricettiva e che non hanno nulla da fare tutto il giorno e che quindi vagano hanno bisogno anche loro di avere una loro dignità e che quindi è un problema anche per loro per noi e per loro semplicemente questo ah no no ho detto all'inizio è favorevole sì è in difformità per poter parlare grazie allora al di là di eh sì c'ho questo strumento qua al di là della ovviamente positività quello che era era il fine era quello di cercare di sollecitare questi i consiglieri nel capire al di là dei profughi non profughi clandestini eccetera era quello di capire che se arriveranno delle persone qui su questo territorio dobbiamo essere coscienti dobbiamo essere consapevoli perché poi arriverà la gente qui quindi più che altro era un come si dice una un'interrogazione filogovernativa come dice qualcuno per cercare di dire attenzione se ci sono poi che arriveranno noi facciamo finta che non sappiamo nulla ma non ci siamo interessati la colpa non è la nostra ma poi ce la riversano la colpa perché dove andranno a finire possibile che questo municipio non sapeva nulla possibile che non era a conoscenza no può darsi pure che tutti con l'ultimo minuto però intanto questo serviva a essere presenti e essere no vigili per cui dopo al di là di chi sono createvi il problema creiamoci il problema che poi ci verrà la gente che sarà avvelenata perché se vanno sotto casa vostra sotto casa mia sotto casa di qualcuno è un problema non è che il problema finisce se sta distante da casa nostra ricordatevelo questo cioè quindi a prescindere andrà a toccare un quadrante e quel quadrante farà i sarti mortali quindi non è un problema di capire chi sono e che cosa fanno è un problema di capire come si interviene come si può ragionare in tal senso però quello che era stato il quesito serviva proprio per avere questo tipo di attenzione ok per non passare per come una come si dice una istituzione territoriale che è sempre tagliata fuori dalle diciamo decisioni centrali sì sarà così ma noi dovevamo comunque interessarci perché avevamo sentito e volevamo comunque capire se nel nostro quadrante quante come e perché uno stop grazie voto ma stengo ovviamente devo fare diverso se non posso parlare io anche mi astengo e in questo io anche mi astengo Mastella muo i gordo adesso fa pure il sindaco e no ma stengo anch'io perché ritengo anzi positivo l'intervento del vicepresidente Fulvio Giuliano perché ha riportato poi quello che io avevo detto nel senso che è chiaro che il municipio deve essere per dare una risposta a conoscenza del problema e deve poi attraverso la presidente attraverso il sindaco farsi carico di dove indirizzare i profughi che verranno nel territorio noi non ce dobbiamo sempre trovare come figli figli minorenni come ho detto già in commissione dice vabbè noi siamo in municipio poveraccio non possiamo di niente no rispetto a questo io spero che la presidente si imponga e la commissione e noi tutti insieme io spero tutte le forze politiche ci mettiamo intorno al tavolo e con la responsabilità di tutti non dicendo e giocando su responsabilità non è colpa di 5 stelle è colpa di frate d'italia Roma popolare quello troviamo un'indicazione giusta e con forza la dobbiamo portare al prefetto se è un discorso che noi cerchiamo di farlo unitario e il presidente accoglie questa nostra richiesta e la porta al sindaco perché non può andare direttamente io penso poverina direttamente io la vorrei mandare direttamente troppo e paese mandare direttamente al prefetto ma forse il prefetto magari non è portato a parlare con i municipi però ecco dico deve arrivare con forza a livello capitolino perché il settimo municipio indica indica quello che può essere l'accoglienza il luogo d'accoglienza per coloro che scappano dalla guerra e che vengono a essere ospiti nel nostro territorio grazie sì scusate procediamo quindi se non ci so abbiamo esaurito le dichiarazioni di voto possiamo procedere quindi alla votazione favorevoli contrari astenuti e quindi il risultato è 14 astenuti e un favorevole e l'atto non è approvato non è approvato grazie 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 Grazie.